Quindi un albero per la salute perché? Perché Fadoi crede molto alla salute globale dei nostri pazienti, le ASST, gli ospedali sono responsabili del 5% degli inquinamenti a livello nazionale ed è un segnale, un segnale importante di concerto con i carabinieri. E di fatto che cosa farete poi per abbattere l'inquinamento, il peso degli ospedali sull'ambiente? Beh, abbiamo tante iniziative, questa è la prima delle grandi iniziative che portiamo avanti, questa vuole abbattere la produzione di CO2 negli ospedali. Scusa, mi fai un esempio pratico perché cantare l'albero è simbolico, però poi che cosa fate praticamente? Allora, cosa facciamo praticamente? Diciamo che negli ospedali vogliamo fare in modo che il consumo di energia, l'inquinamento dei vari ospedali si riduca. Alcune iniziative sono già state portate avanti da alcune ASST come appunto iniziative di efficientamento energetico. Bravissimo.